Come funziona AppMeet? Utilizzare AppMeet è semplicissimo, segui gli step necessari per iniziare ad aumentare le visite ai tuoi video YouTube. Fai login al sito. Associa il tuo canale YouTube cliccando sulla pagina Promuovi. Riceverai 50 monete all'iscrizione. Clicca su Promuovi e inserisci il link del video che vuoi pubblicare. Scegli la categoria del video ed il numero di monete che vuoi investire. Il tuo video è ora pubblicato. Ottieni più monete. Guarda altri video presenti sul sito, a ogni visione, di almeno 30 secondi, riceverai un premio di 5 monete che verranno accreditate istantaneamente. Raccogli più monete possibili per poter continuare a pubblicare i video del tuo canale YouTube. Utilizzando la piattaforma AppMeet hai la possibilità di associare il tuo canale YouTube, importare i video dal tuo canale e sponsorizzarli con le monete AppMeet per ottenere visualizzazioni reali, in modo organico, da altri utenti YouTuber che, come te, hanno pubblicato video sulla piattaforma AppMeet. Cosa sono le monete di AppMeet? Le monete AppMeet sono il mezzo necessario per pubblicare i video del tuo canale YouTube. Potrai decidere quante monete investire per ogni video importato dal tuo canale YouTube. Maggiore è il quantitativo di monete che decidi di investire e maggiore sarà il ritorno di visualizzazioni che potrai ottenere in modo organico da altri utenti YouTuber che, come te, hanno pubblicato altri video. Come si guadagnano le monete? Per guadagnare le monete AppMeet, è necessario guardare i video pubblicati da altri utenti YouTuber. Ad ogni visualizzazione, della durata minima di 30 secondi, otterrai un premio di 5 monete che verranno accreditate dal sistema. Le monete ricevute ti permettono di pubblicare altri video dal tuo canale YouTube. Nel caso in cui tu non voglia perdere del tempo guardando video, puoi sempre scegliere di comprare uno dei nostri pacchetti disponibili di Coens.